Giampiero Di Carlo, editore e amministratore delegato di Rock Hall, partecipa a Genova per voi, il talent per autori di canzoni, 2023, decima edizione. Come si inserisce, Giampiero, il discorso, il tema dell'intelligenza artificiale in un talent per autori? Si inserisce con grande cognizione di causa perché l'intelligenza artificiale di tipo generativo è proprio quella parte dell'intelligenza artificiale che si occupa, come dice il nome, della creazione di nuovi originari. Quindi questo è un processo inatteso fino a pochi mesi fa che impatta anche sull'attività di CREA e di chi basa la propria carriera, desidera basare la propria carriera sulla monetizzazione che deriva dal copyright. Quindi l'area grigia che si è creata tra l'innovazione, la tecnologia e la creatività è fonte di rovente dibattito in questi mesi proprio per questa regione. Ecco, ma in termini di produzione musicale, l'intelligenza artificiale? Il tema è che l'intelligenza artificiale di tipo generativo può fare tutto, può fare veramente tutto, quindi può scrivere testi, può ideare suoni, può scopiazzare autori noti e quindi diciamo idealmente crearne dei cloni, ma crearne anche dei cloni veri, con le fattezze, il timbro, l'apparenza, quindi potrebbe fare tutto. Questa è una complicazione sulla quale l'industria musicale e chi opera nel campo dell'AI generativa devono lavorare, c'è tutta una normativa che chiaramente non è adeguata a questo tipo di innovazione, ma anche un quadro di riferimento globale, quindi ci sarà molto lavoro da fare e molte discussioni a portare a termine. Grazie. 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 Grazie.